Eccoci tornati nello studio di Uno Mattina, partiamo dai giornali. Allora, il Consiglio dei Ministri approva il DL Aiuti Quater, sostegni contro il caro, energia proprio per le famiglie, la stampa dall'aumento al tetto del contante, alle bollette a rate per le imprese, tutte le misure dello scudo anti-rincari, ancora il messaggero bollette dal Consiglio dei Ministri, via libera al DL Aiuti Quater, rateizzazione, tetto al contante, super bonus tutte le misure. Lo abbiamo visto, è stato approvato ieri in tarda serata dal Consiglio dei Ministri il decreto Aiuti Quater, che era molto atteso perché contiene tutta una serie di interventi che sono proprio mirati alle famiglie e alle imprese. Allora, diamo il buongiorno Ernesto Vetrano, dottore commercialista, bentornato, e Vincenzo Bassi del Forum delle Associazioni Familiari, perché cercheremo anche di capire quali sono i problemi proprio legati in questo momento alle famiglie. Allora, vengo subito da lei, cerchiamo di capire proprio questo DL che cosa, quali sono tutti gli aiuti che possono realmente e concretamente aiutare le famiglie. Ci facciamo aiutare anche dalla prima slide. Caro energia, rateizzazione bollette, benefit aziendali per lavoratori dipendenti. Diciamo che il governo ieri ha messo già tutto in campo il tesoretto che il governo Draghi aveva lasciato, quindi di oltre 9 miliardi, e la gran parte di questi fondi sono stati destinati proprio agli aiuti per il rincaro delle bollette. In particolare è stata data la possibilità alle imprese di poter rateizzare i consumi, quindi il costo delle bollette in 36 rate, richiedendolo appunto ai fornitori delle utenze, per i consumi dal 1 ottobre fino al 31 marzo e che potranno essere poi fatturati entro il 30 settembre. Quindi le imprese avranno modo di alleggerire l'uscita... Quindi hanno una bella boccata d'ossigeno. Sì, quindi hanno questa possibilità di alleggerire l'uscita finanziaria del costo delle bollette. Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti, è aumentata la parte esente del welfare aziendale, diciamo la somma che le imprese potranno erogare come fringe benefit, però è bene puntualizzare questo aspetto, che è un quid che le imprese potranno dare come agevolazione ai propri dipendenti, quindi non è un contributo a fondo perduto o un credito d'imposta. Quindi in questo caso l'importo sale in esenzione dai 600 euro ai 3.000 euro, quindi le imprese potranno dare dei premi di produzione, per esempio, anche per il pagamento delle bollette, fino a 3.000 euro, e questo importo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile, per cui il lavoratore potrà prendere questi fino a 3.000 euro esempi di imposti. Beh, mi sembra intanto una bella notizia, quindi sia una notizia positiva. Altra cosa, lei come è arrivato questa mattina qui? Questa mattina sono arrivato con una macchina. Con una macchina, quindi immagino che comunque anche lei, come tutti quanti noi, si è fermata al distributore per far benzina. Anche lì, caro gasolio, caro benzina. Anche in questo caso il governo ha prorogato fino al 31 dicembre la riduzione delle accise sui carburanti. Quindi è stata data questa possibilità perché scadeva il 18 di novembre, mentre invece questa riduzione sulle accise e dell'IVA al 5% è stata prorogata fino al 31 dicembre. Quindi questo comporterà una riduzione al distributore di circa 30,5 centesimi al litro per benzina e gasolio. Per quanto riguarda invece il GPL e il metano, sempre per autotrazione, quindi gas da autotrazione, la riduzione è inferiore di circa 8 centesimi per litro. Dottor Bassi, vengo da lei, perché lei comunque è un po' il termometro al polso della situazione di quello che accade prevalentemente nelle famiglie italiane. Lei è anche papà, ho letto di tre bambini, quindi un po' come me. Cosa accade? Le famiglie riducono l'acquisto quando vanno a fare la spesa, visto anche il caro energia, è vero che oggi almeno siamo partiti con la puntata con delle belle notizie, però i veri problemi nelle famiglie quali sono oggi? Diciamo subito che i bisogni delle famiglie non sono tutti uguali, quindi non esiste un modello di famiglia, dipende da tante cose, dai contesti sociali, economici, ma anche territoriali, per cui i bisogni di una famiglia che vive in città sono evidentemente diversi rispetto ai bisogni di una famiglia che vive in provincia. Quello che possiamo dire è che oggi è importante eliminare il superfluo, si torna a quella sana semplicità che i nostri nonni ci hanno insegnato, la difficoltà rispetto al tempo dei nonni è che oggi non riusciamo più ad avere capacità di risparmio, quindi aumenta automaticamente l'indebitamento e la capacità di risparmio si riduce, proprio perché non è facile ridurre completamente la capacità di spendere, quindi in alcune circostanze continuiamo a spendere, ma spendiamo non grazie al reddito, ma spendiamo a debito e questo è un problema che probabilmente... Perché si stiamo abituando a comparare sempre tutto in modo rateizzato. Rateizzato, però questo significa spostare avanti il problema, cioè il problema non è soltanto oggi, e oggi c'è il problema, ma il problema sarà anche domani, quindi dovremmo monitorare con grande attenzione tutto questo. Ecco, un'altra cosa però penso anche che, prima lei parlava ovviamente anche in base al posto dove si vive, si torna forse anche a parlare di collettività, di comunità, perché quando lei ha parlato prima dei nonni, i nonni una volta si davano una mano, una volta veramente avevano l'opportunità di fare, di accendere il forno per tutti quanti. Sarebbe bello poter accendere il forno per ogni pianerottolo e cucinare anche per gli altri. Sarebbe un modo anche per riparlarsi. Ma questa cosa qui è una cosa che si sta realizzando, perché i gruppi di acquisto, tanto per fare un esempio, sono una realtà. Prima erano stati introdotti i gruppi di acquisto per garantire la qualità del cibo, adesso invece è anche un problema di prezzo, perché c'è una grande differenza, si può fare economia in questo senso. E poi non c'è dubbio che nelle reti di famiglie i problemi si riducono, se non altro perché ci si confronta. Quindi, tornando all'esempio dei nonni, è vero che non si possono ricreare i villaggi perché l'epoca è diversa, però la qualità di quei rapporti può essere garantita e ricreata attraverso delle reti di famiglie che garantiscono soprattutto la possibilità di sconfiggere la più grande malattia di questi tempi, ovvero la solitudine. È vero. Allora, Vedrano, torno a lei, la riforma del calcolo dell'ISE, quindi l'assegno unico, cambierà, aiuterà le famiglie? Intanto sul tavolo del governo, tra i vari dossier, c'è proprio quello di rivedere il calcolo dell'ISE, vedendo di escludere o di modulare il calcolo, per esempio, della contribuzione dell'immobile. Molte famiglie sono proprietarie di un immobile, sono fortemente indebitati, ma il peso che questo dato dà sull'ISE è molto penalizzante e quindi si sta rivedendo proprio per evitare l'esclusione di tanti nuclei familiari da agevolazioni proprio per questo motivo. Ecco, vogliamo ricordare però chi ha diritto all'assegno unico? Sì, per quanto riguarda l'assegno unico, tutti i nuclei familiari hanno diritto ad avere un contributo che varia dai 50 ai 175 euro per ogni figlio minorenne o maggiorenne fino a 21 anni, purché sia uno studente o per disabili. E bisognerà ripresentare la domanda ogni anno per indicare il numero di figli per cui godere di questo contributo e l'ISE. Diciamo che l'Ips sta vedendo anche di poter, per alcune categorie di nuclei familiari, erogare il contributo in maniera automatica. Allora, prima le ho fatto una domanda, anzi era un'affermazione, perché le ho detto lei è papà di tre figli, perché le ho chiesto questo? Perché si sente parlare anche del quotiente familiare. Che cos'è? Perché in base anche al numero proprio dei componenti della famiglia? Esatto, il quotiente familiare non fa altro che riconoscere una realtà. Si genera bambini e si crea famiglia mettendo in comune risorse umane, spirituali, materiali, economiche, patrimoniali. Tutto questo determina evidentemente una certa efficienza e distribuisce le risorse all'interno della famiglia. Non c'è dubbio che il quotiente familiare riconosce un principio semplice, ovvero che il denaro impiegato, il reddito impiegato a favore dei figli non può essere tassato, perché noi abbiamo, genitori, la responsabilità di svolgere questa cosa, questo servizio, che ha una rilevanza pubblica. Tassare quel reddito costituisce un'ingiustizia fiscale. Il quotiente familiare... E se ne sopprattutto a volte frena anche quindi l'azione del genitore. Il genitore si trova oggi in una situazione, tante volte, di dover scegliere qual è il male, il bene migliore. E non è certamente facile. Quindi noi ci auguriamo che attraverso la fiscalità si possa ritornare verso una giustizia fiscale che premi e non incentivi, ma premi le famiglie. Perché avere bambini, avere una famiglia è una cosa bellissima. Serve, e l'abbiamo raccontato. È anche una cosa bellissima. Ci ritorneremo. Grazie Vincenzo Bassi, grazie Dottor Vetrano. E tra l'altro siamo contenti proprio di essere partiti con una bella notizia.